Nel 1682 vede la luce un'opera importante della filosofia moderna, un'opera di Pierre Bale che si intitola I pensieri sulla cometa. L'opera è un commento critico a un evento realmente accaduto allorché nel freddo inverno del 1680 nei cieli d'Europa apparve ben visibile una cometa che dai più venne interpretata come presagio di eventi funesti, quasi come se la cometa con la sua visibile presenza stesse a significare l'epifania imminente di eventi esiziali per i popoli d'Europa. A quel punto Pierre Bale si sentì in dovere di redigere un testo, appunto I pensieri sulla cometa che apparvero nel 1682, per smontare e decostruire le tesi centrate sulla superstizione e diffuse da una visione che certamente era religiosa, cristiana a quel tempo, ma che altrettanto certamente si sostanziava anche di pregiudizi molto antichi e ben radicati nella paganitas. Ecco allora che il testo di Pierre Bale, un corposo testo suddiviso in due parti, prova anzitutto a smascherare i pregiudizi, l'intolleranza e il fanatismo di cui molto spesso la religione e anche quella cristiana si sostanzia. Pierre Bale lo fa valorizzando il metodo scientifico, valorizzando il logos e la sua capacità di procedere, diradando le nebbie della superstizione, dell'inganno, del fanatismo e proponendo giusto appunto l'idea di una ragione in grado di investigare senza lasciarsi traviare da pregiudizi ed erramenti legati al fanatismo. La prima parte del testo è dedicata esattamente a una riabilitazione della ragione critica contro le brume della superstizione e del dogmatismo schiettamente religioso. La seconda parte del testo di Pierre Bale, altrettanto importante rispetto alla prima, si risolve in una sorta di riabilitazione della figura dell'ateo. Sì perché dopo aver chiarito che la religione assai spesso è foriera di superstizioni, di dogmatismi anche pericolosi come quello di chi pensa che la presenza in cielo di una cometa sia foriera di eventi negativi, occorre spiegare come anche senza religione si possa vivere ed è a questo che è consacrata la seconda parte dell'opera di Pierre Bale, mediante la quale egli riabilita, dicevo, la figura dell'ateo. Anche l'ateo, anche chi non crede in può essere un soggetto virtuoso, pienamente rispettoso delle leggi della società, pienamente morale nella sua indole, cosicché Bale introduce un elemento letteralmente dirompente nella cultura del tempo, una cultura per la quale era inimmaginabile che si potesse essere a un tempo atei e persone da bene, persone moralmente rette, persone integre sul piano giuridico. Ebbene Bale introduce la figura dell'ateo virtuoso. L'ateo virtuoso è colui il quale, pur non credendo in Dio, si comporta in maniera perfettamente coerente con la morale, perfettamente coerente con la legge. Il paradigma supremo dell'ateo virtuoso, seguendo i ragionamenti di Bale, può essere identificato in Spinoza. Spinoza, con la sua poderosa etica, testimonia di uno sforzo etico sentito, basato non certo su fondamenta cristiane o comunque religiose, ma sulla ragione, sul lumen naturale, come Spinoza stesso lo appella nel trattato teologico-politico. Il lumen naturale basta a essere morali, anche perché, spiega Spinoza nel trattato teologico-politico, la fede ci chiede semplicemente obbedienza. La differenza tra ragione e fede implica una diversità di ambiti. La fede richiede in noi l'obbedienza, la ragione invece richiede il pensiero. Ebbene, Spinoza diventa il paradigma dell'ateo virtuoso. Bale per un verso mostra come molti cristiani, pur essendo cristiani, sono moralmente non integri. E per converso come alcuni atei, e possiamo ripetere come esempio quello di Spinoza, sono per parte loro pienamente morali. Sicché non è il credere in Dio che fa la differenza, si può benissimo essere credenti e non morali, e viceversa atei e morali, come appunto testimoniato dal caso di Spinoza. L'ateo virtuoso par excellence, l'ateo che, pur non credendo nel Dio tradizionale, mediante la figura che è stata detta del panteismo, per cui la natura stessa, tutto ciò che è divinità, Deus si ve natura, mediante questa figura Spinoza di fatto riesce a essere uomo sommamente etico, morale e non di meno ateo, secondo la lettura di Pierre Bay. Naturalmente si aprirebbe qui una lunga discussione se quello di Spinoza possa a stritto senso intendersi come ateismo, o se non sia invece una forma di religione, sia pure sui generi, o addirittura, secondo la lettura estrema di Hegel, se quello di Spinoza non sia in realtà non un ateismo, bensì un acosmismo, una negazione del mondo risolto in Dio. Sì, perché dice Hegel, in Spinoza in realtà non è negato Dio, è negato il mondo, perché se vale Deus si ve natura, vuol dire che allora il mondo stesso è Dio, e il mondo scompare in Dio. Questioni periferiche rispetto al tema che stiamo affrontando, i pensieri sulla cometa di Bayle, che con queste due parti introducono elementi davvero dirompenti nella cultura del tempo, che segnano l'avanzamento di una modernità che sempre più rivendica la propria autonomia, la propria immanenza, il proprio procedere, iuxta, propria principia.